buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video come sempre vi invito a mettere molti like per sostenermi e iscrivervi al canale anche perché non mi stancherò mai di ripetervelo è totalmente gratuito quindi a voi non costa nulla e a me date un grande contributo allora se vi ricordate tanti giorni fa vi avevo parlato di questo portiere di svilara nel frattempo naturalmente l'operazione è andata in porto quindi la roma è riuscita è riuscita ad aggiudicarsi questo ragazzo prospetto che interessava anche ad altre realtà europee perché comunque sia non era titolare nel benfica però un ragazzo comunque giovane con già presenze in champions league con la prima squadra va a significare che si tratta di un talento così come il fatto che ha già avuto modo di debutare con la nazionale maggiore serba dopo aver sempre giocato titolare nelle nazionali giovanili del belgio quindi un ragazzo che non ha ancora raggiunto la titolarità ma che già le sue spalle partite di champions league un esordio in nazionale a sta a significare abbastanza chiaramente che si tratta di un giocatore di grande talento ma ora entriamo in bomba nel discorso che probabilmente interessa di più tutti voi perché la roma l'ha preso che ruolo avrà nella roma io quando devo spiegare una cosa cerco sempre di fare di basarmi su esempi facilmente capibili da tutti quindi esempi che ci riguardano molto da vicino l'idea di quella della roma è quello di riprodurre ospina ospina meret ospina è titolare nel napoli ma meret ogni anno comunque sia riesce a ritagliarsi spazio per 10 15 perché no alle volte anche 20 partite quindi il progetto della roma è proprio questo qui rui patricio resta titolare ma allo stesso tempo adesso ha un altro portiere in allenamento in rosa competitivo un portiere che lo può insidiare nel senso più positivo del termine questa cosa non va vista con negatività ma come un qualcosa di stimolante come un qualcosa che possa accrescere la competitività di questa nostra zona del campo naturalmente la prossima estate verrà fatto anche molto altro però dato che comunque il portiere era un qualcosa da andare a implementare giustamente la roma ha preso questa decisione fermo restando che c'è anche in primavera un ottimo mastrantonio che magari farà o la spola tra prima squadra e appunto primavera stessa oppure verrà mandato in prestito ho fatto giocare con continuità già tre professionisti ma questa è una valutazione che verrà fatta solamente al termine della stagione questo è quanto ragazzi quindi chi voleva sapere perché è stato preso svilare e che ruolo avrà svilare nella roma ha ricevuto da me una risposta se il video vi è piaciuto tanti like e iscrizione al canale un abbraccio a tutti